furio colombo allora tu hai realizzato questa intervista che io ho riletto con attenzione poche ore prima che pasolini fosse ucciso è un'intervista nella quale pasolini per carità grandissimo poeta però diciamo è soprattutto un osservatore della situazione come tu la definisci nell'intervista del nostro paese la situazione ed è un'intervista amara provocatoria anche feroce in certi momenti anche sul ruolo degli intellettuali che cosa voleva dirti esattamente pasolini in questa conversazione evidentemente voleva come dire avvertirmi faceva quello che fa un amico quando sa di una cosa pericolosa che si sta muovendo intorno alla persona per cui ha cura e di cui si occupa e vorrebbe dirgliela e vorrebbe raccontargliela così come sta per accadere e questo è il senso dell'intervista è una sorta di confessione di cose che pasolini ha visto capito saputo anticipato e che mi stava raccontando senza sapere che eravamo senza sapere ma sapendo in un certo senso che era a pochi passi da una conclusione drammatica della sua esistenza bellissima e drammatica e quindi cosa mi stava mi stava dicendo esattamente ciò che aveva capito e ciò che intanto nessuno di noi lo sapeva tranne Enzo Siciliano che intanto stava scrivendo nelle in quel libro petrolio che non è mai diventato completamente pienamente definitivamente il suo libro ma al quale stava affidando quelle cose che lui sapeva come ha scritto sulla prima pagina del Corriere della Sera mesi prima quelle cose che lui sapeva ma di cui non aveva le prove ecco il caso ci ha uniti in questa situazione il caso si è formato perché nasceva presso la stampa dove io ero uno dei giornalisti di della 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 parte della parte culturale culturale insieme con alberto senigallia la stampa stava era un'idea del del direttore la stampa stava creando tutto libri che è tuttora vivo e c'è tuttora e esce tuttora con la stampa ma è nato il primo numero con questa e con questa intervista a Rigolevi che dirigeva il giornale mi ha chiesto di vedere di incontrare Pasolini e di fare questa intervista prima che qualsiasi altro giornale la facesse devo confessare che per me era facile perché c'era una frequentazione di Pasolini è vero che questa frequentazione avveniva prevalentemente attraverso Moravia e attraverso Dacia Maraini che erano i suoi grandi accompagnatori nella vita di tutti i giorni ed è vero che quindi la frequentazione intensa di Moravia e di Maraini mi ha portato a trovarmi accanto praticamente a Pasolini nel momento in cui mi si chiedeva di fare un'intervista che avrebbe dovuto essere una sorta di rappresentazione della vita e della tensione nella quale viveva Pasolini nel momento in cui questa questa intervista gli veniva gli veniva chiesta è stato facile averla è stato facile per queste ragioni di amicizia trasbordata dall'amicizia di altri di altri amici cari ed è stato praticamente chiesta un giorno per averla l'altro il giorno successivo praticamente Pasolini era molto occupato è molto teso in quel periodo perché siamo nei giorni del film delle 120 giornate di Salò e in quel momento avrebbe potuto tranquillamente e amichevolmente posporre e proporre un'altra cosa un'altra data invece ha accettato invece l'ho accettato l'ho trovato il pomeriggio del giorno seguente all'avervi telefonato per chiedere l'intervista l'ho trovato in questa stanza che descrivo nell'introduzione nelle prime pagine del libro e l'ho trovato come dire come impegnato già impegnato a raccontare quello che sarebbe successo e che sta per succedere quindi diciamo che se è difficile dimenticare quella intervista per i molti che l'hanno letta dato ciò che è accaduto nella vita e nella vita italiana non soltanto nella vita di Pasolini di una persona di uno scrittore ma dell'intero paese dato quello che è successo e dato il modo in cui quello che è successo è rimasto come dire pietrificato ecco c'è una cosa secondo me molto interessante in questa intervista e c'è il fatto che tu contesti a Pasolini a fronte delle critiche che lui delle critiche e anche della diciamo di questa visione molto amara molto preoccupata del futuro del paese tu gli contesti il fatto che però lui si può permettere di essere contro utilizzando gli stessi strumenti che in qualche modo lui accusa di essere fonte della se posso interpretare della forbice che si allarga tra i deboli e tra una e una borghesia che promette cerca di omologare tutti no e lui di fronte a questa contestazione ti risponde sì però il problema vero è che bisogna avere il coraggio del rifiuto è così sì è così è esattamente è una specie di trascrizione dattilografica quella che è accaduta fra le sue parole e la mia e la mia scrittura d'altra parte eravamo molto abituati a quel tipo di di discussione non bisogna dimenticare che la letteratura italiana in quel periodo era divisa fra fra l'avanguardia e alcuni grandi da bassani a Pasolini che continuavano a sentire l'arte lo scrivere l'impegno e il dovere verso verso la comunicazione letteraria come un fatto che non aveva il tempo o la modernità di cambiare e di farsi o più leggera o meno infelice aveva invece le ragioni per riflettere più profondamente e in modo più angosciato su ciò che stavano stava accadendo io quindi mi sarei trovato come componente come io facevo parte di quella che allora si chiamava l'avanguardia il gruppo 63 gli umberto ecco i gualestrini i guglielmi e lui sapeva e mi sentiva affettuosamente accogliendomi con una generosità notevole dalla sua parte starei per dire dello scontro nonostante la diversità che conosceva che conosceva benissimo quindi le mie obiezioni sono anche le parole di una di una di una di un rapporto difficile che era in corso in quel momento non soltanto fra la letteratura o la poesia e la vita ma fra ma dentro la letteratura la poesia la vita attraverso due diverse due diverse interpretazioni che avevano una delle quali il punto di riferimento più grande più alto era pasolini ecco io ho scelto stranamente perdonato in un certo senso anche dai miei colleghi del gruppo 63 ho scelto di non scegliere ho voluto stare non me non me la sono sentita di allontanarmi da pasolini e di dargli e dire che aveva torto quello che gli dicevo erano gli argomenti della nostra convertì di molte nostre conversazioni e soprattutto del 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 dello scontro fra il gruppo 63 e la letteratura di allora ma nonostante ciò la generosità di pasolini è stata piena ho avuto un soccorso in quell'intervista straordinario perché non si è negato nulla di ciò che poteva essere il tema di quello che stavamo discutendo e devo dire che il fatto che sia riuscita come un'importante testimonianza della cultura italiana e della cultura europea del tempo si deve al al fatto che pasolini ha deciso di essere aperto pronto e libero nonostante la diversità dal dei punti di vista dai quali partivano le rispettive domande e risposte una brevissima interruzione pubblicitaria torniamo con furio colombo troffata 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 mi Grazie a tutti.